Ho cominciato all'incirca a 14 anni riparando gli strumenti dei miei amici perché suonavamo assieme e ho cominciato mettendo le mani sui loro strumenti e da allora ho sempre avuto il pensiero fisso di costruire strumenti miei. Mi sono avvicinato alla liuteria e alla musica in generale a 14 anni sempre quando ho scoperto i Pink Floyd. Io ho appreso da autodidatta. All'inizio fu molto difficile perché internet non era veloce come adesso e quindi solo per caricare delle foto in cui si potessero carpire dei piccoli segreti ci voleva anche mezza giornata. Una fase importante del mio lavoro ma quello di tanti liutai che ancora usano i metodi tradizionali è la verniciatura. Io vernicio gli strumenti totalmente a gomma lacca a tampone. È una tecnica che usa appunto la gomma lacca che è una resina naturale disciolta in alcol. La verniciatura avviene appunto sfregando il pezzo da verniciare con un tampone imbevuto di gomma lacca. La differenza fra uno strumento industriale e uno di liuteria fondamentalmente è l'accuratezza nel realizzare tutte le parti per quello specifico modello rispetto a quelli industriali che invece sono comunque fatti a catena di montaggio. Il musicista che viene dal liutaio di solito è un musicista molto esperto che più o meno capisce anche un po' di liuteria. Cerca dagli utaio quegli accorgimenti tecnici che non può trovare in uno strumento industriale. L'accoppiamento fra i vari legni che dà un determinato suono è soprattutto una cosa fondamentale, l'intonazione dello strumento. Ma quella a cui sono più affezionato sinceramente è la mia terza chitarra, non la prima come si potrebbe immaginare. La terza è stata quella a cui tengo di più perché è nata davvero per caso, in un pomeriggio in cui non avevo voglia in realtà di lavorare e ho provato a fare qualcosa di nuovo e è venuta una cosa bella.